Conto alla rovescia anche in Toscana per il ritorno dell'obbligo di catene a bordo di pneumatici invernali sulle principali strade statali e sulle autostrade. Il codice della strada lo prevede con l'arrivo dei primi freddi e sebbene quest'anno il meteo sia stato particolarmente clemente la legge non cambia. Da martedì 15 novembre fino al 15 aprile dell'anno prossimo i veicoli tranne ciclomotori e motocicli saranno tenuti obbligatoriamente ad avere dotazioni invernali montate o disponibili a bordo. I mezzi a due ruote come detto sono esentati dall'obbligo ma non potranno circolare in caso di nevicate in atto o presenza di ghiaccio. All'inizio di ogni strada interessata dall'obbligo è presente la segnaletica con data di inizio e di fine del provvedimento e colore di sfondo blu per le strade extraurbane, verde per le autostrade ed eventualmente bianco per le strade urbane. Gli organi di polizia stradale possono verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica il rispetto dell'obbligo. Per chi fosse colto in fallo sono previste sanzioni che per tutto il 2022 vanno da 87 fino a 345 euro, importi che potrebbero cambiare dal primo gennaio del nuovo anno.